Ciao tutti ragazzi e ragazzi! Benvenuti qui in questo nuovissimo video! Oggi faremo giochi anormali, come se abbiamo pikachu! 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 Pikamech Vi erate! Uno roi e tre! Uno roi e tre! Ciao! Io la prendo uno roi e tre! 1, 2, 3, 1, 2, 3 e io la prendo 1, 2, 3 e la prendo e faccio. Poi facciamo obbligo verità, giudice, salvataggio, ascendere, obbligo verità, e poi la prendo a me, ma io la prendo, come la prendo a me, come ci si sa l'ombre? No, 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 ma io la prendo a me, 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 ma io la prendo a me! Allora, fare il verso del pòfagallo. Obbligo o verità? Scusate, allora, c'è obbligo di fare, adesso non ci tocco, ma? Ok, mettete like, condividete. Iscrivetevi, iscrivetevi, saldi like, ciao!